Mentre sa fare il progetto, poi dimentico, ne penso un altro. Quindi è lui il vero appassionato del prodotto. Era talmente segreto il progetto del motore sui cilindri BMW che la BMW chiese che si attrezzasse la sua cantina con la sala motore e questo ingegnere lo realizzò in casa. Questa vettura è nata a bra sotto le armi. Questa è una delle mie preferite, dopo la Nazca questa è una delle mie preferite. Questa macchina qua ha girato solo a Nardò, l'ho guidata io e poi un'altra versione, la prima di serie, l'ho usata come apripista nella gara storica della Cesana Seste. La Golf nasce con l'intento di fare concorrenza alla 128 Fiat. Ha uno charm. Ancora da far venire la voglia di fare un giro. Non si arruginerà mai come la Alfa Sud. E adesso arriva la domanda che potrebbe interrompere questa amicizia che si è creata. La nuova 33. Nell'Olimpo dei designer più famigerati di tutti i tempi svetta Giugiaro. Un nome rimasto indenne a decenni di evoluzione e turbolenze di un settore, quello dell'automobile, in cui per avere successo disegnare non basta. È necessario infatti comprendere le logiche di questa industria, interpretarne le esigenze produttive e, perché no, cercare di far contenti anche chi, queste automobili, alla fine desidera comprarle. E ad oggi, tanto per avere conferma dell'ottimo lavoro svolto, sono oltre 60 milioni i veicoli in giro per il mondo che testimoniano le competenze e la genialità di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, che dal 2015 lavorano ancora insieme con la loro GFG Style, col quartiere generale che rimane in una splendida villa a Moncalieri e, poco distante da lì, si trova il loro garage, se così vogliamo chiamarlo. Un luogo magico dove proprio Giorgetto Giugiaro mi sta aspettando. Ignaro che da Bologna io a Moncalieri ci sono arrivato in pandino, proprio per rendere omaggio a lui e alla Panda 4x4, che nel 2023 festeggia un importante compleanno. Oh! Ma è un colore di oggi, questo. Maestro! Ben arrivato! Bisognava onorare questo giorno. Grazie, ma è uscito adesso dalla linea. Ha notato? Ha notato? Ma anche il colore, è un colore che si usa adesso. Si può accomodare, anzi si deve accomodare. No, 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 perché sono tutto mal messo, però oggi posso dire che è la prima volta che lo vedo con i due tettucci. Il doppio tetto è diventato adesso molto ricercato, prima ovviamente era un qualcosa di... Ma, allora, questa è la vettura che io amo di più. Perché? Perché il tema che è stato De Benedetti a dare l'ok per fare questa ricerca. Quando De Benedetti è diventato l'amministratore della Fiat, venne da noi ed era a fine luglio e mi disse E noi abbiamo bisogno di una vettura alla francese come spirito di prodotto, per cui abbiamo questo motore che dobbiamo utilizzare, vedete voi. E noi gli abbiamo detto, va bene, a settembre inizieremo questa ricerca. E lui mi fa, ma, no, no, io ho bisogno di subito, ma ci sono le ferie. Era a fine luglio e lui mi dice, ma dove vai in vacanza? Vado in Sardegna perché ho affittato una casa lì. Ah bene, io sono in Sardegna, tu al mattino vai a fare il bagno, il pomeriggio, incominci la ricerca di questo prodotto, poi il 15 di agosto vieni da me in villa, e mi fai vedere la ricerca e discutiamo. Il 15, dopo non aver fatto tanti bagni, telefono e mi dicono, l'ingegnere non c'è, ma rientra? No, no, non rientra più. Mi sono detto, ecco, ciao. Mi sono fatto le vacanze, telefono a Mantovani che era in montagna e dico, guarda che, l'ingegnere De Benedetti non c'è. Quindi, arrivo a Torino, apro la stampa, De Benedetti out. Per cui ho detto, beh, le vacanze ci siamo fatti io, commentando con Mantovani. Nello stesso giorno mi telefono e mi dicono, guardi, l'ingegnere De Benedetti non c'è più, però il progetto vive, vado avanti, siamo informati e quindi Tuffarelli mi ha detto, non si preoccupi, vado avanti. E questo è quanto riguarda questo inizio di progetto. Il risultato? Le hanno lasciato ampia libertà durante, diciamo, la fase... Io ho fatto questa ricerca solo con l'ordine De Benedetti di fare un prodotto alla francese. Punto. Presentato il modello interno e esterno, quindi avevamo come esterno due modelli, se ne ha scelto uno che sembrava il più idoneo, e quindi abbiamo fatto questo in assoluta autonomia. Perché dovevamo rispettare i pesi, i costi e tutto l'aspetto di un prodotto alla francese. Alla francese. Ma dato che ci siamo, casualmente qui io ho un pennarello, lei può arricchire ulteriormente questa... Per distruggere va bene. No, è un onore, visto... Va bene. E' casuale questo pennarello, è tutto casualissimo. Mi siedo perché se no in piedi non riesco. Allora, vediamo se sono ancora capace. Ah, è il garage. Il garage. Semplifichiamo. Non è solo un garage, questa è... Cioè sono alcune vetture che abbiamo voluto ricomprarci perché abbiamo venduto la nostra attività e quindi poco alla volta abbiamo riempito, non ci sono tutte, ovviamente. Vetture significative che poi... Quelle che abbiamo deciso, più che altro Fabrizio, perché non mi interessa, a me interessa fare il progetto, poi dimentico, penso un altro. Quindi è lui il vero appassionato del prodotto. Io posso solo descrivere come ho incominciato. Questa è la 2006 Sprint che è del 1960 come produzione di Bertone, una piccola serie. ma il disegno è del 59, quindi ha parecchi anni, perché nel 60 sono andato alla Bertone come responsabile dopo un esercizio che era solo illustrativo ma sono stato ingaggiato, assunto da lui per sviluppare questa vettura qui. Quindi questa ovviamente è una tinta non molto visibile ma è la vettura che Bertone ha prodotto ed è stata presentata a novembre del 60. E che ricordi ha di questo periodo? Allora, il ricordo è favoloso perché io ho conosciuto Bertone tramite un amico che era responsabile dello stand del salone perché volevo fare delle illustrazioni dei loro prodotti, io ero impiegato a Fiat per guadagnare qualcosa di extra. Per cui questo mio amico mi presenta a Bertone, Bertone mi chiede cosa fai tu alla Fiat e gli ho spiegato che cosa. E ho anche richiesto di fare dei bozzetti per guadagnare qualcosa. E lui mi dice portami a vedere qualcosa, gli ho fatto vedere diversi bozzetti, poi lui mi incarica di fare uno studio più concreto, meno avveniristico e io ho ricevuto lo schema di questo telaio e ho fatto questo esercizio. Lui non mi dice nulla, mi dice beh la prossima settimana ti dico se ti do del lavoro eccetera. Mi chiama dopo questa settimana e mi dice i tuoi bozzetti van bene però io li ho presentati all'Alfa Romeo all'Alfa Romeo ma io ho fatto un esercizio per farle capire che cosa so fare. Se vengono a sapere una cosa già mi licenziano. Mi fanno no 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 guarda io devo fare questa vettura. Tu vieni di sera ma ragioniere ma io ho spiegato Fiat non posso fare una cosa del genere. Ma quanto guadagni così come glielo sto dicendo adesso. Io mi ricordo ero 80.000 lire al mese e lui subito mi fa ma io te ne do 120 quindi il 50% in più però vieni da me e così sviluppi questa vettura che era di interesse mio ma è di interesse dell'Alfa Romeo affinché io produca queste piccole serie di vetture. Così ho fatto licenziato di tronco. Ma qual è stata la molla per cui mi sono licenziato? Perché dopo avergli detto che era interessante l'offerta gli disse ma io non posso venire perché a marzo era novembre a marzo devo fare il militare. E lui mi disse ma se vieni da me il militare non lo faccio fare perché ho diverse conoscenze per cui posso evitarti il militare. E questa è stata la molla per andare da Bertone. A marzo arriva la cartolina. Gli dico ragioniere ma lei mi ha promesso che non avrei fatto il militare. Eh va bene però io ho già predisposto che vai negli Alpini. Io ero destinata all'aeronautica perché nella selezione ho fatto dei disegni riguardo agli aerei, alla portanza, aspetti tecnici. E lui mi disse ma guarda, a Brà ho già affittato in un albergo una camera che tu puoi disegnare, esci alle cinque dalla caserma, vai in albergo, tu mangi nel ristorante dell'albergo, non mangi neanche in caserma, poi ovviamente alle dieci rientri. E questo è quello che lui mi ha prospettato, cosa che è avvenuta. Sono andato a fare il militare a Brà e a Brà ho fatto quella vettura lì, la Giulia GT. Questa vettura è nata a Brà sotto le armi. Quindi io disegnavo in questa camera d'albergo di Brà e quindi questa come progetto è nata a Brà. Poi quando è finito il car sono andato a Torino, avevi permesso e per cui ho seguito il progetto fino alla sua realizzazione. Gliel'avranno chiesto in tantissimi, io non gliel'ho mai chiesto perché stiamo parlando ora. Questo. Allora. Lo scalino. Allora. Perché adesso lo scalino. Allora. È una religione. Nel gradino ci sono due aspetti, intanto era una piccola presa d'aria, era un po' più alta di qualche millimetro, ma aveva due scopi. Il fatto di non avere riferimento, anche se era un po' più di due millimetri, non perdeva l'aspetto della sua misura. Ma era una presa d'aria. Funzionale. Funzionale. Poi alla fine non è stato più funzionale, è un motivo. È un motivo. Che però adesso è uno dei motivi per acquistare quest'auto. Non lo so, un capriccio, ma era un motivo di un ingresso d'aria. Che è diventato un capolavoro. Sì. Un'Alfa invece che ha sicuramente segnato una parte della sua vita, magari non di successo come questa, ma sicuramente sfidante. Quale? L'Alfa Sud. L'Alfa Sud. Allora, l'Alfa Sud. Bisogna capire come nasce il prodotto. Innanzitutto, l'ingegner rusca che conoscevo tramite il periodo di Bertone, eccetera, viene da noi per fare una richiesta. Fa io ho bisogno di un progetto, di una vettura che deve avere queste misure, più o meno, carreggiata, lunghezza massima, passo. E naturalmente noi facciamo le domande. Dico, ma in che fabbrica, che attrezzature? E lui era in imbarazzo a dire che cos'era. In buona sostanza ci dette delle informazioni graficamente. Lui su un foglio a quadretti metteva lo sbalzo dal centro ruota al punto di lunghezza, dal centro ruota alla pedaliera. E così la lunghezza massima. Per dire, io ho bisogno di un prodotto che abbia queste caratteristiche. E noi, guardando questo tipo di misure, ci siamo detto, ma si avvicina a 124 Fiat come riferimento. E lui non ha detto niente. Comunque, lui alle nostre domande non ci disse che era un Alfa Romeo. Non ci disse che non c'era neanche lo stabilimento. Perché Mantovani, che è l'uomo che si occupa dalla parte viva del progetto, ma che fabbrica è? Come è attrezzata la fabbrica? Dove è la fabbrica? Non abbiamo avuto nulla da parte dell'ingegnere. Quindi lei si immagina di fare un progetto sulla parola dell'ingegnerusca, che sapevamo che aveva questo, diciamo, aspetto importante. Poi, ovvio, si è venuto a sapere, in un modo molto riservato, che era un prodotto Alfa Romeo di categoria inferiore. Quindi andava così in concorrenza un po' ai prodotti Fiat, perché era più modesto. Quindi nasce con delle, diciamo, misure di un ingegnere che tra i pochi ingegneri che ho conosciuto conosce tutto, pesi, dimensioni. E quando io ho fatto il modello in base alle sue richieste, ho fatto tre modelli in polistirolo. E ne abbiamo scelto uno che concordavamo. Poi prende il metro, comincia a misurare i vetri, misura e dice, non mi piace più. Quindi lei si immagini, un ingegnere che, per quanto riguarda l'estetica, se non corrisponde al centimetro, non è per lui interessante. Però poi riuscì a convincere che se i vetri erano 42 centimetri, non 40 come voleva, voleva dire che c'è una visione ottica che deve lasciarmi la libertà di esprimermi. Perché se le facciamo secondo le misure precise, per quanto riguarda le proporzioni. Quindi io ho avuto carta bianca, ma lui ha anche fissato le valigie. Perché il bagagliaio era una questione importante. La lunghezza massima da non modificare, il passo da non modificare. Che poi è stato costretto a modificare alcune misure. Perché Mantovani, che era un tecnico, gli ha detto, ma quando si mette il radiatore piccolo per le prestazioni davanti, non ci sta, deve allungare almeno di un centimetro. Tragedie per un centimetro. Però l'abbiamo allungata. Poi il mio socio Mantovani, quando abbiamo fatto il manichino con le quattro valigie richieste da l'igiene rusca, lui sorrideva. Non volle lo sportellone, perché era pesante, costoso, quindi uno sportellino per infilare le valigie. Mantovani sorrideva, perché quando si è arrivato al punto della logica ingegneristica, lo sportello per aprirsi aveva bisogno di colli d'oca. I colli d'oca trinciavano la valigia, quindi non era più di quelle misure che io le ricordo, 4,50, 210, 700, 4. Quindi ha dovuto mettere le cerniere fuori per non togliere il volume delle valigie, che per lui erano sacre. A lui non ne fregava niente se c'erano le cerniere fuori. Lui, quando ha presentata la direzione, il manichino che faceva vedere l'abitabilità. La capacità ci sta. 4 valigie così, 3 entravano sulla più grande Mercedes. La Mercedes doveva tagliarla a petta per infilarla a 4. lui aveva 4 valigie dentro il suo baule. Obiettivo ragione. Allora, questi aspetti, la gente compra la macchina, che ne sa. Ma il progetto è fatto con molti criteri di logica, di funzionalità, che non c'entrano niente con l'estetica. L'estetica è qualcosa che deve esaltare al meglio, però la funzionalità, la razionalità deve essere rispettata. E invece, non ce l'abbiamo qui esposta, ma se mi permette, sulla Golf. Allora, la Golf è un prodotto che è nato nel 70, quindi io avevo già fatto un po' di esercizi, come si dice. Cosa succede? Gunper era l'importatore della Volkswagen e mi dice che deve andare su il 2 di gennaio del 70 perché hanno bisogno di progetti. Io, vabbè, parto io solo, il traduttore l'ho trovato lì, e mi sottopongono uno schema di una vettura che io così non capì bene che tipo di progetto volessero. Poi nella sala c'era 128 FIA tutta smontata. Che soddisfazione le ha dato vedere la 128 FIA. Naturalmente, sono entrati in una sala un po' più piccola di questa che c'erano 30-40 persone, chi responsabile, eccetera, eccetera. però vedendo questo tipo di prodotto tutto smontato era chiaro il riferimento che avrebbero chiesto un prodotto di riferimento. Come per dire, quello che ti stiamo chiedendo è il concorrente o qualcosa che potesse contrastare questi prodotti. Naturalmente mi sottopongono questo tipo di schema e io conoscendo bene le misure che per loro vedevano me così un designer che faceva degli schizzi di macchina non avevano capito bene non avevano capito bene che tipo di esperienze, eccetera. Io dissi ma è la concorrente della 128 FIA? Eh sì, noi il maggiolino dobbiamo passare con un nuovo prodotto e io dico ma come mai è più piccola? Ha meno cariggiata, ha meno abitabilità, ha meno bagagliaio? Come mai una vettura che nasce per fare concorrenza ha una vettura ed è inferiore nelle misure? E loro mi hanno detto noi non riusciremo mai a fare un prodotto come la FIA 128 con quel peso, con quel costo, con quella meccanica, con l'abitabilità, con quel bagagliano. ci dobbiamo accontentare di fare un prodotto che più o meno corrisponda a quello che è il maggiolino. Questo è quanto io ho sentito e che riferisco. Quindi loro avevano un'avvenerazione della FIA incredibile. Quindi la Golf nasce con l'intento di fare concorrenza alla 128 FIA. Naturalmente ho detto ma è più piccola, come si fa a fare un tre volumi con un'abitabilità. Quindi ho fatto questi due volumi ed è nata la loro. La questione prezzo, chiedo scusa, è che la vagamente citata adesso con la Golf e poi la citata anche con l'Alfa Sud. Quanto il prezzo influenzava la sua fantasia, la sua creatività a livello operativo in un progetto? Allora, per fare questo tipo di professione deve avere anche informazioni su quelli che sono i pesi, su quelle che sono le difficoltà di certi disegni nella composizione della carrozzeria. Allora, il mio successo è essere e diventare un po' ingegnere, capire come si fa oggi per risparmiare la composizione. Qui avete di fronte una vettura fatta da un carrozziere non da un grande industria automobilista che fa milioni di prodotti. Allora, l'operazione per comporre ci sono saldature, c'è manualità, ma quando fai un prodotto di milioni di vetture anche un piccolo momento di saldatura ha un costo, per cui la scomposizione devi capirla essendo conscio di quello che è la progettazione di un modello. Quindi io sono diventato ingegnere nel senso di conoscenze e ho fatto un servizio alla Golf, alla Volkswagen che me ne hanno regalata una perché uno dice quanto costa, ti pagano e finisce lì. Ma quello che gli ho fatto io alla Volkswagen nessuno lo riconoscerà mai perché io ho fatto un'operazione non solo estetica ma di composizione industriale che gli ha fatto guadagnare miliardi. Nessuno lo può capire se non entri nelle fasi tecniche e economiche. Allora il mio successo è problema di estetica ma nessuno pensa qual è stato il mio apporto industriale. Quello si ignora, la gente guarda, mi piace, mi piace, bella, ha tanti cavalli, finito lì. Industrialmente però qui c'è un'altra auto che io da appassionato di cinema stimo per tanti motivi poi so che meccanicamente ha avuto qualche ok che ogni mese a livello di produzione aggiornavano qualcosa questa è la versione ad esempio dopo qui le antenne hanno cambiato, le lette parasole, le infiltrazioni, so però allora uno le voglio chiedere lei ha conosciuto John DeLorean? Certo è venuto lui appunto perché che tipo era un bel uomo tipo un attore del cinema lui aveva l'incarico alla General Motors di promuovere i progetti di vetture sportive andava sovente in California specie a Los Angeles per promuovere i suoi prodotti ha conosciuto un'attrice oriunda italiana se ne è invadito e ha voluto dimostrare che lui poteva farsi la macchina e così un uomo ambizioso ha deciso di farsi la vettura sperando che trova facilmente finanziatori eccetera eccetera poi è iniziato il suo calvario perché fare un progetto di una vettura è facile però per industrializzarla per trovare tutta un'organizzazione per produrla dove con che investimenti con che componenti che venivano da paesi ecologiche industriali diverse allora io ho iniziato nel 55 a capire cos'è l'industria automobilistica quindi ho visto tutti i colori gente che è fallita gente che si è illusa e quindi questo grande manager della General Motors ha iniziato il suo calvario nella ricerca dove farla con che finanziamenti con che partner e quindi ho seguito tutto il suo iter e poi una volta fatto il prodotto noi ce lo siamo dimenticati noi fai un prodotto poi ne penso un'altra che me ne frega io però se posso non mi dimentico di questa soluzione che lei ha suggerito perché qual è il problema qual era il problema cioè perché questa soluzione in acciaio allora quando uno deve fare un prodotto che ha bisogno di strutture di attrezzature ma se immagino quanto costa un'organizzazione di verniciatura per i prodotti lui nel cercare finanziamenti qualcuno gli ha suggerito che se non la vernice risparmia ma non la vernice deve utilizzare l'acciaio inossidabile così è stato fatto con tutte le complicanze dell'acciaio inossidabile perché i giochi tutto quello che riguarda un prodotto che non puoi né discarlo né con lo stagno per lo verniciatore deve essere tutto perfetto ma i giochi li vede sono più grandi la qualità del prodotto non è la qualità che osserviamo adesso come le vetture tedesche sono tutte perfette lui ha risparmiato a livello di verniciatura a discapito allora lui ha nella scelta del comitato perché non si fa una macchina da solo hai bisogno di tecnici di esperti che raccoglie destra e sinistra ha deciso di farlo in acciaio inossidabile con tutte le complicanze di chi non ha mai fatto un prodotto in acciaio nel mondo nessun brand ha mai fatto acciaio inossidabile certo risparmi sulla verniciatura però se lo bolli cazzo a ripararlo sono dolore comunque è nata con questa sua livrea importante abbiamo dovuto mettere un bordo di protezione perché non è che sia esteticamente molto bello però serve per proteggere quando apri la porta se qualcuno ti striscia una cosa molto delicata questo è un miracolo aver fatto una vettura in acciaio inossidabile non si arruginerà mai su questo come la alfa sud che ha avuto i provvedenti ruggine e visto che ci troviamo qui di fianco alle 112 112 che stimoli che stimoli le hanno dato o che allora è chiaro che nessuno conosce come nascono le cose nasce la Bugatti a motore posteriore di cui noi non abbiamo avuto l'incarico se non di fare una proposta ma ormai era già avviata arriva il suono di Torino e io decido di fare un prodotto per attirare dei clienti su quelle che sono le nostre abilità per cui io ho chiesto a Artioli ma io vorrei fare una Bugatti per me perché io voglio avere una vettura e quindi ci dà il telaio sì vi do la meccanica questo prodotto è nato come proposta di ordine generale di un prodotto quindi molto personale 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 quindi l'ho fatta secondo quello che era la mia idea di una berlina con questo brand importante quindi nasce per me per avere una vettura quattro porte eccetera la presentiamo al salone di di Ginevra del 93 grande successo decidono di farla questo è il prototipo per fare la serie abbiamo fatto delle modifiche questo per l'aerodinamica qui non ce l'aveva i fanalini erano qui li ho messi lì per un problema di crash questa soluzione è bellissima e quindi sono tutti piccoli ritocchi per l'industrializzazione questo è il prototipo questo è quello di serie qui ci vedo un tocco di Hyundai nella 6 avrò un copiato perché questo nasce in 93 discendente beh c'è anche una certa vettura tedesca che berlina tedesca altoprestazionale che si è ispirata si è ispirata la Porsche alla mera certo allora gli spoiler nascono per esigenze puramente di funzionalità una vettura che ha questa coda qualsiasi vettura crea una portanza come un'ala di un aereo le ale delle aeree hanno la forma per sollevarsi con il flusso d'aria per poter evitare questo alleggerimento del treno ci vorre lo spoiler tutte le Ferrari le grandi vetture che corrono hanno questi spoiler per tenerli per terra e quindi questa non si voleva mettere quello però a un certo punto dico o ti tieni il culo che va per aria o piccole modifiche per poter razionalizzare il prodotto partiamo con questo modello in polistirolo un progetto che segue un progetto industrializzato della Hyundai quindi un coupé sulla base della stessa meccanica la Hyundai ha perso questo tipo di prototipo e ha richiesto per festeggiare i 50 anni della Hyundai di rifare questo tipo di prodotto che avrebbe voluto produrlo ma non ebbe sufficiente maestranze per produrlo in serie in buona sostanza hanno perso il prototipo e quindi ci hanno chiesto di fare questo prototipo che abbiamo fatto per l'esposizione di Villa d'Este dove loro presentavano l'evoluzione di questo tipo di vettura sportiva a due porte e quindi voleva avere questa vettura abbiamo fatto il disegno il manichino per poter costruire questo tipo di vettura ovvio è difficile leggere una vettura in bianco bisogna vedere le foto del prodotto che a distanza di 50 anni è ancora abbastanza piacevole lì c'è il disegno che abbiamo dovuto rifare della della vettura quindi ci ha chiesto e per fortuna che vi ho ancora i disegni tutti i disegni di allora con delle varianti qui era uno degli studi con il paraurto poi il paraurto si è ridotto solo a un piccolo accenno quindi tutto il disegno il manichino perché abbiamo fatto abbiamo dovuto rifare l'interno con un cruscotto ancora valido da un punto di vista estetico e questa è la nostra ultima non l'ultima comunque rifare quel che abbiamo già rifatto praticamente io ho venduto due volte la stessa vettura trascorrere un'intera mattinata con Giorgetto ti lascia senza parole ma con tante altre domande in realtà che non gli hai fatto e che dopo averlo conosciuto gli avresti voluto e dovuto fare anche perché lui di ogni suo progetto ricorda ogni dettaglio così quando si è seduto per illustrarci letteralmente illustrarci un aneddoto della sua panda beh quasi mi sono commosso e nonostante questa dedizione questo metodo questa memoria questa tenacia i suoi interessi sono ben altri rispetto all'automobile come ormai è arcinoto dall'arte imparata dal nonno e dal papà fino al trial esatto Giorgetto appena può torna nella sua garestio salta sulla sua moto da trial e via di sterrato in compagnia di amici consapevole però che tutto il suo talento i suoi obiettivi sono nelle mani anche di Fabrizio classe 1965 che oltre ad aver firmato auto formidabili a differenza del papà lui le supersportive le ama davvero e non a caso le sue creazioni sono sovente assai veloci basse e filanti ciao Andrea sei incuriosito da questa prima mia macchina buongiorno benvenuto la mia giornata epica ed emozionante sta continuando sì è un caso che io ti stessi aspettando proprio qui no non lo è affatto perché da quello che ho capito la disposizione delle macchine ha un po' di senso soprattutto queste due qua sono all'ingresso perché la mia prima che ho fatto nel 1990-91 è quella di mio padre che diciamo all'inizio anni 60 quindi le nostre prime due vetture sono qua e perché di fatto tu hai iniziato a lavorare con mio padre non so dire esattamente quando perché da quando sono piccolo che da quando ero piccolo ho cominciato a pasticciare e poi nel 1990 mio padre aveva talmente tanto lavoro che nonostante io avessi solo 25 anni mi disse ma non c'ho tempo falla tu e quindi diciamo che ho cominciato ufficialmente nel 90 e nel 91 l'ho presentata c'ha già più di 23 anni questa vettura questo è un progetto sfidante nel senso che qui c'era da rendere giustizia allo stile ovviamente stiamo parlando con te ma anche al motore perché anche il motore che tra l'altro era vista sì io lavoravo molto con BMW ero molto affascinato da questo motore particolarmente disegnato bene ho conosciuto l'ingegnere che lo costruì un aneddoto pazzesco lo costruì lo costruì in casa era talmente segreto il progetto del motore di BMW che la BMW chiese che si attrezzasse la sua cantina con la sala motore e questo ingegnere lo realizzò in casa quando gli chiesi sì ma che designer ti ha aiutato per la forma del sistema di aspirazione eccetera ma no no l'ho fatto io le cose che funzionano sono anche belle ed è vero un po' il nostro modo di fare cioè ciò che funziona esteticamente con un minimo di criterio normalmente è anche bello questo due cilindri l'ho voluto incastonare in questa forma dove adesso il vetro a specchio magari non aiuta lo si intravede ma seduti dentro tutti i giravi di questo motore veramente particolare al di là della sua potenza della sua capacità di prestazione perché poi la NASCA è famosa anche per l'utilizzo del carbonio sì è stato il primo progetto che abbiamo affrontato allora in azienda completamente in carbonio nel vero senso la parola c'è un'immagine divertente di mio padre che teniamo il telaio in mano pesava non più di 35 kg 40 kg ed è stata la prima vettura GT per la strada con il monoscocca in carbonio dove addirittura davanti le sospensioni erano incollate direttamente al telaio e non aveva tralicci se non quello posteriore perché il motore non era autoportante quindi abbiamo dovuto creare un traliccio posteriore per tenere e poi anche la questione di crash però prima di tutto il telaio un grandissimo esperimento ne abbiamo fatti poi tantissimi derivati da questo e poi la carrozzeria che ha un vantaggio il carbonio in un pezzo solo come vediamo qua non ha tagli con un taglio solo separa porte e cofano quindi sembra impossibile che questo si apra ma si apre e oltretutto è un enorme bagagliaio è un po' di apertura me la ricordo piuttosto spettacolare sì questo è un giochetto che non ha un senso diciamo estetico non è stato fatto per spettacarizzare l'ingresso ma perché è talmente bassa la macchina è un metro poco più di un metro di altezza mi posso sedere? certo sarebbe impossibile entrare e questo è stato solo un giochetto per riuscire a entrare meglio su una macchina super super tirata quindi è veramente bassa hai il punto H diciamo il sedere a 140 mm da terra veramente bassa bassa oggi si fa anche di peggio però stiamo parlando del 1990 ed era l'evoluzione per me della BMW M1 in accordo con BMW doveva essere prodotta per sostituire la BMW M1 che fu l'unica realizzata costituita da mio padre in azienda in realtà al 91 cosa è successo? la crisi del super car per via della guerra del golfo che non si erano stati infortunati ma ne ho fatte per fine tre per tre collezionisti quindi ne esistono tre di cui più questa che l'originale quella originale qui ci sono i rimandi classici questo è il climatizzatore delle 36 il computer di bordo delle 36 i tastini per dimostrare a BMW che si poteva fare con la loro componentistica c'è tutto la componentistica tranne radio che è una radio GVC che avevamo disegnato loro noi avevamo disegnato questo di solito sulle 36 sono invece questo è sotto al clima me lo ricordo qui esatto e in più quando facevo vedere la BMW ho fatto dei test con loro e la loro affoncuna che anche esternamente ha i fanali della Z1 e poi mi dice sì però la freccia no non è vero la freccia è della moto GS BMW GS80 ah sì fantastico quindi tutta la componentistica BMW è stata la prima è stata la prima ad avere delle cose un po' particolari anche a livello meccanico e quindi aveva l'ABS aveva l'anti-skid e un sistema per cambiare l'assetto da bagnato a strada diciamo asciutta l'abbiamo sperimentato poi siccome allora ovviamente dovevi proprio cliccare il pericolo fosse che sbagli non c'erano i sensori oggi lo puoi fare l'automatismo del sensore quindi l'abbiamo poi eliminato ma cambiava assetto in modo che anche sul bagnato avesse una una tenuta particolare e anche le maniglie le maniglie erano delle BMW 850 quindi tutto fatto attraverso la cosa divertente di questo progetto è che come dicevo è nato perché mio padre non aveva tempo ho detto no questa volta il prototipo del salone Fallotour ma dopo tanti anni di training ho cominciato in realtà appunto metà anni 80 con mio padre io avevo gli ingegneri tedeschi BMW che facevano un riunione con me una volta ogni 15 giorni quindi c'era una sala con 15 ingegneri BMW e io ero lì avevo 25-24 anni mi ho parlato a aprire la porta e mi diceva tu fai questo tu fai questo tu fai questo e mi dava in rete hanno fatto la vettura tecnicamente ineccepibile perché comunque allora non era uscita neanche la BMW 850 da cui è arrivato il motore il motore ancora oggi non era un motore di serie era ancora una pre-serie era talmente anticipava talmente anche i loro prodotti che quel motore lì c'è ancora scritto da qualche parte prototipe era ancora un prototipo invece ho fatto 50.000 kg ah però sì sì proseguiamo perché così mi permette certo pare che a Fabrizio Di Giaro piacciono le super sportive ma almeno in quest'angolo posso permettermi qui c'è un po' di esempi c'è un po' c'è anche una vettura che è nata appena dopo che è la Shiger qui la vediamo in versione diciamo taroccata non ci possiamo salire no questa no esiste poi quella vera che ce l'ha un collezionista svizzera qui era l'idea oggi è molto in voga di riportare in auge la famosa Alfa Romeo 33 qui la storia è un po' argomento attuale ecco la storia se l'è un po' dimenticata che io nel 93 93 o 94 non mi ricordo bene ho fatto un esercizio allora il CEO della Fiat e anche Alfa Romeo era adesso mi sfugge il nome che mi obbligò a fare questa macchina a trazione o anteriore o integrale insomma ingegnere anteriore perché la Fiat switchava tutto sull'anteriore erano gli anni della 155 e quindi mi sono complicato la vita perché io seguo anche tecnicamente i progetti non solo di stile parlo sempre un po' poco ma mi sono divertito perché l'ho resa quattro teomotrici mettendo il motore Yulaning in centro quindi una disposizione di pesi fantastica e quindi abbiamo ho voluto rispolverare oggi e in augi ma 30 anni fa no la 33 famosa di cui ha delle a molte diciamo punti in cui in comune questa forma con la coda alta l'unotto ha moltissime cose riprese dall'idea della 33 che era era fantastica ma abbiamo inserito aerodinamica estrema sull'anteriore con queste ali che poi Mercedes ha realizzato qualche anno dopo e quindi aerodinamica anteriore e lateralmente la versione non chiamiamola da cosa aveva dei flabelli o chiamato flabelli che si aprivano e si chiudevano a seconda delle velocità perché i radiatori erano posteriori quindi tutto il gruppo meccanico radiatori compresi erano dietro erano dietro e adesso arriva la domanda che potrebbe interrompere questa amicizia che si è creata la nuova 33 io lo dico con serenità ho perso un'occasione perché secondo me al di là dell'operazione straordinaria mi lascia perplesso su alcuni dettagli l'operazione è straordinaria ovviamente basta dire l'Alfa Romeo però hanno perso un'occasione secondo me dal punto di vista stilista hanno fatto bene a farla ha fatto bene se l'aspettavamo tutti dovevano farla era il momento giusto però l'Alfa Romeo è pura non è leziosa questa ha delle particolarità un po' leziosa seguendo secondo me il solito marketing noi pensiamo che il design deve stare lontano da certe imposizioni di marketing deve essere un po' più libero e soprattutto un Alfa Romeo secondo me non ha bisogno di over design trovo alcuni passaggi over design la forma veramente bellissime proporzioni bellissimo lavoro mi lascia proprio ho preso su alcuni dettagli che avrei tenuto un po' più puri la differenza grossa tra me e mio padre per esempio lui va progetto da quello che ho capito lui è il piacere di disegnare se gli fai disegnare la panda se gli fai disegnare la panda o una pasta non posso dire che ha quasi lo stesso piacere ma siamo lì io invece che sono molto attratto dall'auto la prima cosa che penso è quando potrò guidarla io quindi le faccio per me le faccio per me alla fine e qui ce n'è un esempio straordinario e se vediamo qua perché queste due sono qua in questo museo che oggi ne ha una dozzina in meno perché sono in un museo in Germania più una una è in manutenzione che è la BMW M1 qui abbiamo queste due vicine perché questa Volkswagen stranissimo vedere oggi una Volkswagen motore centrale ma ricordiamoci 1997 la Volkswagen aveva Audi e Skoda come marchi quindi voleva lanciare un 12 cilindri innovativo questo famoso V12 doppia foto esatto molto compatto e mi diede la commessa a me personalmente il presidente non a mio padre ma a me personalmente dopo che vide l'Alfa Romeo perché erano attratti dal fatto che era una vettura a motore centrale 4 3 motrici il PEC ha inventato alla fine la 4 4 motrici su tutte le macchine con un passo cortissimo e allora al di là della forma di nuovo ma come hai fatto e così 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 dico guarda io adesso ti darò un motore che fa il passo ancora più corto dico ma ingegnere è impossibile 6 cilindri cosa mi dà un 4 cilindri no no è un 12 ma ingegnere è impossibile gli ho messo su un tavolo i bicchieri no avevamo questa confidenza e 6 come lo riduciamo e lui prende i bicchieri e li sposta e li sfalsa ha detto ma cosa sta dicendo e ha fatto nascere questo 12 cilindri che stava dentro una Golf il 12 cilindri della Volkswagen stava poi dentro una Golf quindi grazie al fatto di ridurre questa dimensione siamo riusciti il suo target era fare il passo ancora più corto di quello che ho fatto io e ci siamo riusciti con la prima versione andiamo a vederlo però sappiamo che stringere tanto i passi va bene per certe cose ma non su queste vetture qua infatti la prima che si chiamava Syncro 4 motrici aveva una fisionomia molto carina molto molto compatta più dell'Alfa Romeo quando poi l'ha intestata si sono resi conto che aveva un trucco aveva un'era dinamica fantastica allora disse bene per la dinamica migliorarla significa aumentare la coda cambiamo poi il layout e il 12 cilindri appunto questo è uno dei primi prototipi credo che questo motore qua valga più di tutto la mia collezione abbiamo messo il cambio anziché centrale a sbalzo posteriore classico abbiamo allungato la coda e questa vettura qua oggi detiene il record di velocità sulle 24 ore la V12 nel 1999 poi rifatto nel 2001 a Nardò prima dell'acquisizione fece in 24 ore una media di 322 km orari fermandosi a fare benzina e ovviamente olio e manutenzioni varie quindi girava girava a non più di 350-360 km all'ora normalmente perché ovviamente doveva poi accumulare non troppo ritardo e fare il cambio gomme eccetera eccetera quindi questa nasce perché PIEC voleva alzare il livello dell'immagine Volkswagen ma cosa è successo che dopodiché ha comprato ventre Bugatti e Lamborghini e questo bellissimo programma che era nato per andare in serie vediamo anche qui il telaio in carbonio a vista e poi tutte le componenti mi fece volle lui avere gli strumenti della lupo cioè la macchina più cara con la strumentazione della macchina posso? sì sì macchina più economica e con l'ingegner PIEC che ha una storia con mio papà soprattutto e poi con me abbiamo avuto sempre dei progetti divertenti di grande entusiasmo ci vuole passione in queste cose qua se no non riesce anche questa qui molto bassa ha questo tubular questo roll bar a vista che si intravede attraverso il vetro e anche questa è una delle mie preferite dopo la Nazca questa è una delle mie preferite questa macchina qua ha girato solo a Nardolo guidata io e poi un'altra versione la prima di serie l'ho usata come apripista nella gara storica della Torino della Cesana Sestia quindi tutti i miei prototipi funzionano tutti questa assolutamente performante come dico ci ho girato a Nardolo solo io per dei filmati e poi purtroppo purtroppo mi ha fatto poi fare la Gallato la prima Bugatti a motore centrale la 3C16 l'abbiamo fatta noi quindi insomma da questa abbiamo fatto tanto lavoro che di fatto lui voleva dimostrare che Volkswagen non era proprio l'auto del popolo ma poteva arrivare a livelli da supercar qui siamo ad hypercar esatto nel 95 quando abbiamo cominciato questo programma qua la Volkswagen non era un marchio premium cioè era dietro a Fiat era dietro il marchio Fiat quindi lui per dimostrare che tecnicamente e come immagini erano di altissimo livello inventò questo due cilindri che poi è finito sulla famosa Fiaton di cui abbiamo collaborato anche noi per lo stile e sulle Audi e poi oggi ancora sulla Bentley oggi è solo più sulla Bentley ma è piccolo così vedere il fondo scala della Lupo GT mi fa quindi poi se parliamo di linea vabbè la linea per me naturale che le macchine debbano venire bene era molto molto pura quindi i fanali della Golf la prima va proprio i fanali della Golf con un taglio diverso la mascherina ovvio stiamo parlando oggi le macchine sono complicatissime queste erano ancora gli anni in cui posso dire la purezza diciamo contava oggi il marketing ti obbliga a fare delle cose secondo me molto discutibili le macchine le vendono bene quindi non sto a dire però qua sembra disegnata proprio il flusso poi ha una caratteristica questa ha tutti gli elementi Volkswagen quindi ha i fanali derivazione della Golf la Calandra che allora era fatta così Volkswagen e poi questa forma no? questa forma della Beetle la Beetle la Beetle e la coda questo taglio del finestrino della Passat quindi era una vettura che comunque stilisticamente parlava di Volkswagen tirata al massimo ovviamente la vettura anche questa è bassissima e poi vabbè porte un po' esotiche sempre lo stesso discorso le porte esotiche nascono perché se no non entri queste macchine sono troppo basse quindi questo giochetto qui che forse è uno dei migliori sono diciamo molto vicine al mondo Lamborghini c'è solo più lei che fa così è proprio lì che volevo portarti perché giravoce che tu sia affezionato proprio a Gallardo che ogni tanto anche ti si vede in giro sì perché alla fine io me la sono comprata quando è uscita di produzione normalmente ci prendiamo le vetture quando finiscono anche un fatto economico ovviamente ma io ci tenevo questa foto qua che ho qua in museo è particolare perché alla presentazione ho fatto questa foto vicino a sta macchina e posso giurare che quella che ho trovato è proprio quella lì perché gialle con alcuni dettagli che ho trovato secondo me è quella che alla fine ho trovato io sul mercato che è abbastanza rara col side being lit ho detto alla fine è probabile che sia proprio quella lì e quindi l'ho presa qualche anno fa quando è uscita di produzione è stata la Lamborghini più prodotta fino ovviamente all'URSS che poi è un'altra cosa però ci ho lavorato tanto ho fatto l'interno anche e l'esterno guidato sempre da Ingegner Pieck disegnare super sportive hypercar in questi anni in quegli anni e oggi c'è un mondo c'è un mondo ho fatto le ultime supercar recentemente per un marchio nuovo che è Lafitte l'ipote di Jacques che mi ha dato una fiducia pari a quella dell'ingegner Pieck quindi abbiamo fatto una supercar ancora più avanti che non avevo mai fatto è un'impostazione tipo vettura d'Aleman con addirittura i posti sfalsati forse una delle più belline che ho fatto in generale più una hyper SUV che deriva dalla kangaroo da quell'idea che ancora pochi hanno capito è diverso perché i clienti chiedono tante cose e quindi disegni di più di quello che necessario questa è la grossa differenza andiamo a spiegare la kangaroo a kangaroo a questo punto visto che la kangaroo è un progetto che mi è stato chiesto da voi media devo dire questo progetto qua nasce da un'altra vettura che ho fatto quando eravamo insieme al gruppo Volkswagen che si chiamava Giugiaro Parkour non volevano che usassimo un loro marchio per fare esperimenti quindi era Giugiaro Parkour che era la prima ancora adesso non compresa secondo me anche da Lamborghini che ha fatto una cosa diversa hyper SUV cioè un due posti secco ma per una vettura che può andare ovunque io ho appassionato di fuoristrada ho fatto qualche rally in Africa eccetera ma di vetture appunto sportive mi ero immaginato con motore Lamborghini meccanica Lamborghini questa parkour per tutti i terreni e Piaq l'aveva capita infatti mi fece una critica divertente quando la vide che era spettacolare porte tutto quel che vogliamo mi disse bella macchina c'è solo un errore il marchio ma come il marchio mi è obbligato a usare il mio perché non vogliamo poi dopo si capirà dove svilupparla sì sì ma perché non l'hai fatta come Audi dico ma perché non posso io devo chiedere allora adesso era marzo per settembre me la trasformi in un Audi di che anno? 2013 2013 e infatti è uscita è uscita poco perché poi il programma dopo che lui è andato via è stato immediatamente bloccato perché non era un'idea sia non del gruppo si chiamava Audi Nanook lui era un po' dispiaciuto che il marchio e l'identità 4 si fosse un po' diciamo si fosse un po' persa e lui vide in questo programma ecco rilancio l'idea di 4 quindi questa è l'immagine della 4 quindi la parkour era molto Lamborghini molto rude la Nanook bellissima elegantissima qui è un derivato poi la nuova E-Rotto se ne guardiamo la differenza è che questa qua come questa era alta ruota da 22 pollici alta e invece poi hanno pensato dopo che lui è andato via che il programma fosse troppo estremo e che non ci fossero clienti a volere un Audi che in realtà è proprio la sua natura andasse su qualunque terreno e quindi è stato è stato fermato la vettura in museo a Ingol diciamo che quel concetto è stato creato premiato anche a livello di 20 con le on-road ma era un altro tipo di utilizzo sì sì era una vera on-road ma esatto due posti però due posti con la super sportiva beh ora la sterrata sta andando fortissimo e quindi credo essere un promotore di quello anche perché io le uso e quindi mi piace allora cosa è successo che quel successo lì gioco di parole quando io ho lasciato il gruppo e abbiamo di nuovo creato questo centro stile in realtà siamo nella collezione del centro stile nostro spesso i giornalisti dicevano ma quella vettura lì ma perché non la fai elettrica allora vabbè basta nel 2018 19 abbiamo presentato insieme a un partner cinese l'evoluzione di questa idea quindi di un due posti secco ma totalmente elettrica con le sospensioni regolabili allora i SUV li puoi tirare su ma dopo i 50 l'ora riscendono per un problema generico ma soprattutto estendono l'ammortizzatore tu sei impiccato già allora io feci fare ai miei ingegneri un giochetto che la vettura va su va su separando diciamo il telaio dalle sospensioni quindi veramente va su la scocca e il telaio ma le sospensioni mantengono la loro integrità con una questione elettronica che comunque quando sali la vettura è più morbida e quando scendi quindi quando tu alzi la vettura puoi andare io ho detto solo 250 all'ora ma ovunque ma ovunque questa ha derivato ben tre progetti questa qua è stata la prima fatta appunto con un partner cinese dove andare in produzione ma il Covid ha ammazzato anche questo progetto qui ma quella dopo che mi è stata chiesta dal dal governo dell'Arabia Saudita prima del Covid abbiamo fatto una vettura che io ho fatto addirittura ben due mille miglia sono stato il primo al mondo a fare la mille miglia elettrica e quando ho visto questa vettura presentata a Riad chiesta dal governo saudita la mille miglia tu dobbiamo lanciare l'elettrico puoi fare tu da la prima pista quindi il primo anno sono stato l'unico a fare la mille miglia totalmente ho fatto due mila chilometri perché la mia gara dove era? cercare la presa sembra una cosa stupida era il 2019 perdono 2020 perdono colonnine comunque non bastano mai allora era raro adesso c'è l'esplosione ma veramente sembra che tre anni fa siano trent'anni fa io facevo fatica a trovare colonnine grazie a lei che mi guidava via radio dove arrivare eccetera ho fatto sui tofra la mille miglia completamente poi l'ho fatta l'anno dopo ma in gara con le supercar non nelle vetture elettriche erano un po' scioccate da questo fatto qua comunque quindi questa da origine a questa che mi è stata chiesta dall'abbia saudita e poi la fit la fit viene qua Bruno aveva fatto una vettura motore termico tutto terreno un po' con l'idea della parkour mi dice ma devo farla diventare elettrica e ho capito facciare elettrica ma non è che puoi rimanere in questa forma qua quindi abbiamo fatto un programma presentato quest'anno a Miami di una vettura che si chiama Atrax molto più grande e siamo riusciti addirittura a farla 2 più 1 quindi uno si può sedere in centro leggermente sfalsato agli altri ed è forse uno dei progetti ultimi miei veramente divertenti rispetto a questa è molto più grande perché il mercato americano questa è un po' troppo piccolina è solo 4 metri e mezzo l'altra 4 metri e 70 visto che abbiamo approfondito in maniera esagerata l'ambito elettrico se mi consenti vorrei approfondire questa questione vagamente più termica e a tratti forse rumorosa sì questa qui bizzarrini è una bizzarrini magnifica continuation cioè fece la 24 del man nel 65 vincendo la sua categoria e quindi ne hanno realizzate ora come bizzarrini quindi è una bizzarrini in effetti 24 appunto per il giochetto le 24 del man in versione proprio racing la carrozzeria è totalmente in carbonio e la forma è una forma veramente forse una delle più belle di mio padre perché bizzarrini adesso è un marco che appartiene appartiene a un ex proprietario della dell'Aston Martin che ha venduto le sue quote con quelle quote ha fondato la nuova bizzarrini di cui stiamo facendo un nuovo progetto quindi questa la stanno realizzando i 24 pezzi proprio lì ma la futura che uscirà nel 2025 è una vettura ancora più estrema è già stata pubblicata adesso che ha ovviamente molta molto di questa vettura qua anche se il motore è centrale posteriore mentre questo è centrale anteriore e questa sì questa qui qui il motore invece è centrale anteriore centrale anteriore quindi bizzarrini allora fece un layout che io ho provato ultimamente sulla pista straordinario la plancia in realtà nasconde il motore il motore è proprio qua ma la particolarità è che questo motore che udite udite certamente rispetto a Ferrari ha meno charm ce la stai per caso accendendo devo dire che ha uno charm ancora da far venire a voglia di fare un giro quindi come dico tutte le macchine qua normalmente funzionano questa è della bizzarrini non è nostra è qua in museo perché gli piaceva l'idea di portare i clienti europei qua in questo museo a farla vedere tu in 15 secondi mi hai mi hai dato una boccata di ossigeno oleoso eh sì oleoso vecchi tempi sì che futuro hanno queste auto nel senso reinterpretare le storiche in questo modo piace? sì nel senso se lo si fa con del buon senso Alfa Romeo è una prova per esempio ispirati dal successo del passato rimodernizzate quella che seguirà questa identità qua è totalmente diversa ma quando le metti vicine vedi che si parlano e questa è la cosa importante non fare un design retro assolutamente mai parlare di design retro ma di utilizzare il linguaggio stilistico importante che è stato sviluppato allora in punti secondo me sensati e prende la sua fisonomia e la sua identità moderna ovviamente ammettiamo che vedere un padre e un figlio così legati anche professionalmente fa davvero bene al cuore soprattutto se pensiamo che i loro progetti continuano a suscitare l'interesse dei più noti brand internazionali anche al di fuori del settore automotico e questa realtà tutta italiana deve renderci orgogliosi perché se oggi il made in italy è a modo suo un brand beh una parte del merito va anche alla matita dei giugiani quindi un grande garage davvero speciale quello che abbiamo scoperto in questa puntata ma vi assicuro che anche nei prossimi garage che scoprirete nel 2024 l'effetto wow non mancherà quindi non perdetevi le prossime storie dai garage più incredibili d'italia e non solo sempre qui su motor1.com a Grazie a tutti